ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video finalmente il tanto atteso video che adesso sto registrando il video hashtag hai mai detto questo buona visione la prima domanda è hai mai ruotato in pubblico non mi è mai capitato di ruotare in pubblico quindi davanti a tantissime persone e quindi no hai mai baciato qualcuno che non ti interessava sì mi è successo e però insomma niente di che quindi terza domanda hai mai fatto after fare after nel vero senso della parola no non l'ho mai fatto hai mai pensato di smettere di fare video ecco questa sì perché ci ho pensato ero molto affranta dai risultati che non vedevo e quindi mi dicevo mi ripetevo sempre basta smetto di fare video lascio il canale tanto è inutile non faccio più video eccetera eccetera però ci ho ripensato e ho trovato più forza più fiducia nel riprendere a fare video in modo allegramente non forzatamente hai mai baciato qualcuno detto stesso sesso sì mi è capitato ma niente di che un bacetto a stampo così è capitato magari anche non facendolo apposta succede hai mai assistito ad un incidente stradale fortunatamente no non mi è capitato meno male hai mai fatto il bagno di notte al mare questa è una cosa che mi manca e purtroppo no perché a parte che mi metto un po di paura però c'è alla fine non c'è niente di pauroso perché il mare è un posto naturale bellissimo questa domanda me l'hanno fatta tantissime persone cioè hai mai fumato sì ragazzi ho fumato nel periodo delle medie seconda media se non ricordo male perché ero veramente curiosa ero interessata dal sapore della sigaretta l'ho scoperto e fa veramente schifo infatti tuttora a parte che non fumo adesso però se ho qualcuno vicino a me che fuma mi va mi da veramente fastidio e quindi no e non dico la solita frase che dicono tutti non fumate perché insomma alla fine se fumi o non fumi il problema è tuo e la scelta è tua hai mai mentito sì mi è capitato di mentire e purtroppo poi mi sono sentita dentro di me strana cioè perché mentire però si è successo parecchie volte hai mai fatto la stronza con qualcuno sì perché bisogna esserlo a volte con determinate persone perché è giusto che sia così hai mai fatto uno scherzo a qualcuno sì ho fatto tantissimi scherzi e mi ricordo ancora uno questo scherzo che mi nascosi dentro l'armadio di camera da letto dei miei genitori e mi era nascosta accucciata proprio tutta così però che nessuno mi poteva vedere allora mia madre a un certo punto ha aperto l'anta dell'armadio sono smuttata fuori e ho urlato si è messa favorissima ma purtroppo si è sentita male quindi è stato uno scherzo finito male hai mai pensato di riscrivere ad un tuo ex no hai mai urlato in un locale pubblico non mi è mai successo non l'ho mai fatto però ho alzato la voce e io ho già un tono alto di voce poi magari quando ci stanno situazioni particolari l'alzo ancora di più ma niente di che hai mai rotto qualcosa in casa e poi dato la colpa a qualcun altro sì questa mi è successa però non mi ricordo bene mi ricordo che era successa una cosa con mio fratello e io diedi la colpa a lui però era colpa mia e essendo piccolina cioè alla fine a chi crede a me hai mai bevuto alcolici sì li ho bevuti mi è capitato e sono buonissimi però non tutti ad esempio grappa vodka insomma super alcolici no hai mai fatto uno scherzo telefonico sì questi più di una volta perché mi divertivano troppo farli poi andavano anche di moda e c'era quel periodo dove si facevano solamente video youtube prank al telefono però anche senza registrare il video sì gli ho fatti scherzi telefonici a tanti contatti hai mai copiato a scuola allora su questa domanda avere tantissime cose da dire però sì ho copiato mi è capitato ma niente di che non è stato un copiare eccessivo così ma uno sguardo ogni tanto mi c'è andato ma sto parlando delle medie però hai fatto la pipì nella doccia risponde sinceramente anche se mi fa molto ridere però sì hai mai fatto la pipì al mare sì hai mai fatto la cacca in pubblico proprio queste tre domande pipì cacca cioè tanto per farsi i cavoli miei riguardo a questo comunque in un luogo pubblico mi è capitato perché mi stavo veramente sentendo male avevo necessità e quindi uno o due volte hai mai ferito una persona? parliamo ferire una persona proprio nel cuore e sì hai mai bevuto tanto da star male? questa no assolutamente fino all'essere brilli ci sta è super bello divertentissimo ma sentirmi male? no hai mai fumato altro? sì laicos hai mai preso stupefacenti? no hai mai desiderato il ragazzo di una tua amica? questa no perché desiderare è veramente tantissimo pensare che fosse un bel ragazzo? sì ma più di quello non ho mai pensato ad altro sinceramente hai mai spiato qualcuno? sì hai mai dimenticato qualcosa di importante? questa sì mi è capitata e spero che sia la prima e l'ultima ed è successa un po' di anni fa stavo alle medie e era un pomeriggio tranquillo stavo con una mia amica a pane e salame ci eravamo sedute e benissimo tutto quanto avevo scordato il telefono lì sul tavolino e me ne era accorta dieci minuti dopo che noi già ce ne eravamo andate ho detto oddio il telefono dove sta? ho ricollegato l'ultimo posto dove ci siamo state e fortunatamente aveva preso la proprietaria e me l'aveva messo anche in carica perché era pure scarico quindi attimo di paura di panico ed è stato l'ultimo cioè spero il primo e l'ultimo speriamo hai mai fatto qualcosa con una ragazza? no fino a parlarci? sì ma farci qualcosa? no hai mai pianto di gioia? sì tantissimo e soprattutto l'anno scorso quando ricevetti l'iPhone 7 e lì ho veramente mi sono emozionata è stato bellissimo ed ero contentissima quindi non c'è stato solamente quel momento però in modo particolare mi ricordo questo hai mai pianto per amore? sì alle alimentari lì sì poi basta hai mai mangiato le patatine fritte con la nutella? questa mi manca assolutamente come la banana con la nutella che io non ho mai provato e tutti dicono che è buona hai mai fatto una figura di merda davanti al ragazzo che ti piace? questa non mi è mai capitata però magari davanti al ragazzo che mi interessava un pochino una figuraccia sì ma ecco non quelle figuracce stratosferiche prossima domanda questo è il giro della ricarica così almeno posso rispondere velocemente hai mai mangiato fino a vomitare? quasi c'ero quasi però vomitare? no hai mai baciato? sì hai mai picchiato una ragazza? no picchiare no non ha mai alzato le mani anche perché è un atteggiamento arrogante e maleducato sia verso i ragazzi che verso le ragazze non che i ragazzi lo possono fare e le ragazze non lo devono fare a prescindere di nessuno dei due perché è un gesto molto brutto hai mai frenzionato un ragazzo? questa sì mi è capitata tantissime volte purtroppo però ragazzi bisogna essere sinceri se non mi piace non mi piace hai mai rotto degli oggetti per rabbia? questa mi è capitata ho rotto il caricatore dell'iphone secondo caricatore che ho cambiato per rabbia purtroppo non l'ho fatta apposta e mi è capitato hai mai perdonato? sì penultima domanda hai mai avuto un colpo di fulmine? sì ragazzi questa ve la devo raccontare assolutamente all'incirca due settimane fa stavo con mia sorella e mia madre al centro e stavamo verso Ottaviano via Gola di Rienzo ad un certo punto vediamo c'era la Mondadori e ho detto dai entriamoci anche perché non c'entravo da tantissimo tempo e insomma volevo vedere un po' di libri entriamo perfetto e è bello che ci siamo anche state tantissimo tipo una mezz'oretta quindi era l'ora di andare a un certo punto mi giro cioè passa questo ragazzo quindi proprio la scena che io mi giro ci stavamo dirigendo verso l'uscita passa questo ragazzo veramente bellissimo mi ha colpito ci siamo guardati per un secondo ed è stato un colpo di fulmine bello era come piace a me alto era vestito bene, preciso, elegante tanti capelli, occhiali insomma mi dava da un ragazzo intellettuale, intelligente, composto non lo so mi è piaciuto veramente tantissimo prossima domanda, cioè l'ultima sono state 40 domande hai mai pensato al suicidio? mai, non mi è mai andato neanche per un secondo questo pensiero anche perché non ho modo di pensarci non avrei neanche una minima ragione, anche la più piccola detto questo le domande sono finite io sono stata contentissima di registrare questo video mi è piaciuto veramente tanto se avete altre domande scrivetemi qui sotto e vi ricordo di seguirmi su instagram i miei social in descrizione e buone feste un bacione e al prossimo video ciao ragazzi fatemi sapere qui sotto se vorreste vedere altri video di questo genere mi raccomando grazie a tutti